Musica Pena è legato in aeroporto e adesso si fanno tutte le cose che si devono fare e poi parto. Musica E ok ragazzi eccoci qua. Allora sono arrivato ieri e ero morto però sono riuscito comunque ad andare a fare un salto da Walmart e vedere tutte le schifezze che vendevano che amo, assolutamente adoro. Forse un giorno farò anche un video su tutte le schifezze e vi farò sapere un po' se sono buone o no. Il viaggio è stato abbastanza tranquillo alla fine, pensavo molto peggio dato che erano 13 ore di volo ma in realtà una volta che sei sull'aereo sei abbastanza tranquillo perché comunque è fresco. Poi avevo scaricato una serie tv che sono i televisori dove puoi vedere i film. La parte più noiosa secondo me è più che altro quando devi fare i controlli per i passaporti e quelle cose che devi stare in fila lì per due ore e aspettare che ci sia il tuo turno. La non è proprio il massimo. Oggi penso che andrò a Venice Beach che è un mio sogno fin da quando ero bambino di vederla. Che altro dire, cioè qui le macchine sono assurde, cioè ogni macchina che passa è super figa e anche le più brutte hanno quel particolare che le rende molto belle. Il piccolato negativo è un po' la stanza e il college in sé perché la stanza è piccola, non ha niente, ha un tavolo e un letto, un cuscino di plastica, cioè è una cosa stranissima, ok? E poi sì, c'è il bagno fuori dalla stanza che è una cosa che odio però, ok, che devo dire. Tanto alla fine passerò la maggior parte della giornata fuori quindi non è un grande problema. Sicuramente nei prossimi video vi farò vedere un po' come è Los Angeles e tutto. Se avete qualche post che volete vedere in particolare potete scriverlo nei commenti e vedrò se riuscirò a vederlo. Ragazzi, spero che questo vlog vi sia piaciuto, è il mio primo quindi siete un po' pazienti, sai? Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!